Buongiorno a tutti, tutti felici! Avete conto che si scosta ancora la mia professione di seconda, Giuseppe Razzola. Buonasera, buoni! Bene, ammimiamo un applauso! Buonasera, buoni! E accorgiamo la buona storia della Papa Palomocci, o la Palomocci che è questa sera, che è per il campo e potete prendere, già vedere come i bambini del settore di sovra e che i bambini accortiamo un applauso! Buon appetito, buoni! Buonasera, buoni! Buonasera, buoni! Buonasera, buoni! Buonasera, buoni! Buonasera, buoni! Buonasera, buoni! 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 Balea numero 7 della pizza zonata Balea numero 8, piatti Casata numero 28, polpiove Balea numero 25, piatti Casata numero 28, piatti Casata numero 2, piatti Casata numero numero 36, Pino Pasano Balea numero 18, 2 wines Independent Domenico Presidente Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti.